Nella sede centrale dell'Ulss 10, il direttore generale Carlo Bramezza e i presidenti mandamentali di San Dona e Portogruaro hanno firmato un protocollo d'intesa della durata triennale che permetterà ai familiari dei pazienti ricoverati in ospedale e anche al personale assunto per far fronte alle esigenze stagionali di usufruire di uno sconto del 13% nelle 17 strutture ricettive che finora hanno aderito. Questa è l'azienda sanitaria più turistica della regione Veneto, ci stiamo organizzando per ospitare anche quest'anno i milioni di turisti che stanno arrivando nelle nostre spiagge, quindi noi come azienda sanitaria siamo pronti a garantire la sicurezza sanitaria a tutti questi turisti. Ci siamo accorti nel corso degli anni scorsi che quando vi è un ricovero di un turista negli ospedali di San Dona e Portogruaro portato dai punti di prima emergenza che noi organizziamo sul litorale c'è la necessità di dare agli accompagnatori di queste persone che devono magari stare due o tre giorni nei nostri ospedali, dargli anche un supporto logistico e quindi abbiamo chiesto alle associazioni e al commercio di San Dona e Portogruaro di fare una convenzione, un protocollo con cui loro mettono a disposizione delle stanze d'albergo e i loro ristoranti a dei prezzi agevolati, convenzionati. Teniamo conto che circa 18-20 milioni di turisti, il 65% di questi sono stranieri e quindi sono soprattutto di lingua tedesca, anche negli ospedali di San Dona e Portogruaro trovano degli interpreti che parlano la loro lingua nei nostri ospedali e quindi possono dare tutte queste informazioni di cui necessitano. Sottoscriviamo oggi questo protocollo importante che è anche il simbolo della collaborazione che la nostra azienda sanitaria ha anche con gli operatori commerciali del nostro territorio. Per accedere alla scontistica l'utente dovrà richiedere l'apposito coupon all'ufficio accettazione della struttura ospedaliera la quale accertrà le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione e fornirà una lista aggiornata degli alberghi convenzionati. Questo è un esempio chiaro di collaborazione tra pubblico e privato. Il pubblico aveva delle necessità e il privato ha risposto, si è dato disponibile anche a dare delle scontistiche e quindi dei prezzi agevolati per tutti coloro che vengono in queste zone, non per puro divertimento ma anche perché per necessità e quindi gli alberghi della nostra zona hanno esposto tutti presenti e sono tutti ben felici di poter avere questa collaborazione. Oltretutto ci sarà anche l'integrazione online delle due cose quindi le strutture ospedaliere daranno le informazioni in merito a questi tipi di alberghi e gli alberghi daranno anche informazioni in base a tutti i servizi che le strutture ospedaliere stanno dando nella nostra zona. Quindi reputo che sia veramente qualcosa di interessante, di fatto bene e che dovrebbe essere limitato in tante altre località.